Questo libro, questa storia linguistica dell'italionita, è nato nel 1963, è stato pubblicato nel 1963 e poi ha avuto un sostanziale rifacimento alcuni anni dopo, rifacimento o aggiornamento e poi ha avuto un numero di edizioni che è difficile calcolare perché è passato da una all'altra collana della casa editrice, qualche volta anche inaugurandole, fino ad approdare quest'anno con questa nuova edizione alla Biblioteca Storica. Ha continuato a essere usato, adottato, letto in tutti questi anni, nonostante la mia speranza consegnata a un'introduzione, mi pare, del 1970, la mia speranza che altri facesse sulla base di nuovi studi, meglio di me, quello che avevo provato a fare. Quello che avevo provato a fare era vedere la storia linguistica italiana nella sua unità. Cosa voglio dire? Vedere non solo le vicende della lingua italiana, della lingua nazionale italiana, ma vedere queste vicende immerse in quelle del progressivo e lento processo di padronanza di questa lingua, perché questa lingua che consideravamo dal Cinquecento la lingua italiana, chiamata italiano, ed era, come sappiamo, il fiorentino antico, fissato da Dante, Petrarca e Boccaccio, era quel fiorentino, non il fiorentino parlato del Cinquecento, era quel fiorentino che viene eletto a lingua nazionale, così come in altri paesi europei. Le grandi monarchie nazionali, da una parte, dall'altra la riforma protestante in altri paesi anche non uniti politicamente come la Germania, avevano affermato l'egemonia di lingue nazionali, lo spagnolo, il francese, il tedesco, lo svedese, l'olandese, a scapito delle parlate degli idiomi considerati dialettali. In parallelo con questo processo, il toscano antico è scelto come lingua nazionale, ma, cosa che spesso è stata messa tra parentesi o veniva messa tra parentesi, ma questa scelta era una scelta delle cancellerie degli stati preunitari, era una scelta dei letterati soprattutto, ma non si era tradotta effettivamente nella adessione alla lingua comune, alla lingua nazionale presa come lingua comune, come negli altri paesi europei che ho ricordato. E al momento dell'unità politica, negli anni intorno all'unità politica, sappiamo che le persone in grado di parlare l'italiano non andavano troppo oltre il 2,5% e quelle in grado di capire erano un po' più numerose e forse arrivavano quasi al 10%, ma il 90% della popolazione era estraneo all'italiano. L'unità d'Italia ha spinto con una serie di processi paralleli e convergenti poi a usare un po' di più questa lingua. Ma ancora nel 1951-55, all'inizio della vicenda dell'Italia repubblicana, la lingua italiana era patrimonio abituale di una percentuale minoritaria di popolazione e una parte più consistente usava l'italiano e uno dei dialetti, ma l'enorme maggioranza della popolazione, secondo una stima il 64% della popolazione parlava soltanto uno dei dialetti e capiva bene soltanto uno dei dialetti. La condizione di oggi in cui al 94-95% parliamo l'italiano accanto a uno dei dialetti o soltanto italiano, circa il 45% della popolazione ormai parla solo italiano, questa condizione è il prodotto delle vicende della società italiana nell'età della Repubblica Democratica. Ciò che il libro di tanti anni fa e che continuamente viene riproposto cercava di mettere in luce i legami tra questa vicenda e le complessive vicende del paese, vicende di varia natura in cui la scuola ha sempre avuto un ruolo centrale. Noi dobbiamo alla scuola, in particolare alla scuola medio-superiore, in particolare ai licei. Perché ai licei? Perché lo Stato unitario trascura la scuola elementare, la trascura ignominiosamente per una quarantina d'anni fino all'età giolittiana e invece è molto attento, la classe politica è molto attenta a creare dei licei per le piccolissime percentuali, 1-2% di popolazione giovanile che li frequenta e che sono l'élite colta, anche se spesso erano un po' ignoranti, ma insomma l'élite colta del paese punta su questo. E questo piccolo gruppo, inizialmente molto piccolo gruppo, è quello che comincia a usare l'italiano anche nel parlato, abitualmente nelle grandi città, agli inizi del secolo. Questo piccolo gruppo è diventato poi la grande maggioranza negli anni della Repubblica perché altri fenomeni sono intervenuti. Ha cominciato a svilupparsi la scuola elementare. La scuola elementare era privilegio di una minoranza nella della prima parte del Novecento, non più del 30% della popolazione giovane riusciva a prendere la licenza elementare e le cose sono modificate profondamente. La spinta a cercare di avere la licenza elementare è una spinta che ha operato potentemente tra anni 40 e 50, con le esigenze della vita democratica e dello sviluppo economico e sociale del paese. Le classi dirigenti con qualche ritardo hanno secondato questa spinta, ma insisto, nasce prima la spinta e poi si generalizza la scuola elementare. La spinta si rafforza, ragazze e ragazzi cercano di andare alla scuola media dagli anni 50 o 60 e poi finalmente interviene la scuola media unificata. I ragazzi continuano a spremere per andare al liceo tutti quanti, al liceo le medie superiori e si comincia a discutere di una riforma della secondaria superiore nell'anno di Grazia 1969 e solo ora in questi mesi abbiamo avuto una legge di riordinamento della secondaria superiore che viene chiamata riforma, su questo ci possono essere dubbi, comunque con un ritardo enorme rispetto alla realtà del bisogno di livelli più alti di istruzione. La scuola ha abbastanza bene risposto a quello che gli si chiedeva, nonostante lamentele, le querimonie che vengono da più parti, anche gli attacchi alla scuola pubblica che vengono addirittura dal governo stesso del paese. È stata aiutata certamente nel consentire alla popolazione di imparare l'italiano da altri fattori. Le grandi migrazioni interne sono state fondamentali che hanno portato enormi masse dal sud al nord, dal Veneto, dalle campagne, dalle montagne, nelle grandi città. Altro elemento fondamentale è stata naturalmente la televisione, l'ascolto televisivo. In un paese che leggeva pochi giornali e che parlava poco la lingua nazionale, la televisione ha portato modelli di italiano, buoni o cattivi che siano per i contenuti, ma modelli di italiano parlato in tutte le case degli italiani.